il e non è 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 per evitare quello stesso tipo di discussione lo schema era 1, 4, 5 e noi abbiamo fatto questo quindi non si discute di altro allora vi siete divertiti? e bravo no? Capitano Cantana ragazzi, grande, grande grazie a tutti facciamo ancora un grande applauso mi senti veramente Mario, Mario vieni qua ricordiamoli ancora tutti gli artisti che si sono eseguiti questa sera a partire dal Capitano un grande applauso per Pumbi che ha imparato il testo questa sera quindi veramente della mia capacità poi il bomber non è legge mai grazie